Un consumo di droga quattro volte superiore a quello di Venezia dell'area metropolitana, accertato dai dati dell'azienda sanitaria clodiense. Troppo e doveva esserci per forza un canale di approvvigionamento esclusivo dello stupefacente. Quello che hanno scoperto i carabinieri di Chioggia, che con l'ausilio dei comandi provinciali, hanno smascherato un'organizzazione italiana di spacciatori. 25 le persone per le quali è stato spiccato il mandato di arresto, 18 in carcere, 5 domiciliari, un obbligo di dimora e un divieto di dimora nella provincia veneziana. 22 gli italiani, un marocchino, uno sloveno ed un ucraino. La banda che si riforniva di droga lungo la rutta balcanica dalla Slovenia ha movimentato qualcosa come 70 kg di cocaina, 150 di marijuana e 30 di hashish. Sostanze tutte immesse nel mercato di Chioggia e nei comuni limitrofi delle province di Venezia, Treviso, Padova e Rovigo. Gli esiti investigativi hanno evidenziato che c'è stata una rete di distribuzione della sostanza stupefacente nella zona di Chioggia, che vede coinvolte un gruppo di cittadini sia italiani che stranieri attraverso l'approvvigionamento di questa sostanza stupefacente sulla linea estera della zona balcanica e con una distribuzione di piccolo spaccio e medio spaccio nella zona di Chioggia ma anche con un bacino di utenza che si allarga anche nel Basso Polesine, nella zona di Ferrara e anche nella zona di Padova. Esiste anche un collegamento con il Piemonte. 250 gli uomini impegnati nell'operazione, tra cui anche 100 finanziari del GICO che stanno eseguendo accertamenti su un centinaio di persone, numerose attività economiche per verificare come siano stati reinvestiti i proventi dello spaccio. Già sequestrati beni per 7 milioni di euro ascrivibili agli arrestati. 7 milioni di euro sono la parte di profitto ritratto direttamente dalle attività criminose da parte degli indagati e una parte di patrimonio che è risultato sproporzionato rispetto alle capacità reddituali di queste persone. Quindi avevano case e altre proprietà che non erano commisurate a quanto dichiaravano al fisco. Tra le attività che stiamo sequestrando ci sono anche degli esercizi pubblici, degli esercizi di ristorazione, dei negozi, insomma, quindi attività economiche normali. Gli inquirenti hanno individuato un bacino di utenti di circa 150 persone. In corso anche il sequestro di un appartamento e la verifica di alcuni rapporti finanziari riferibili al capo dell'organizzazione a Tenerife.